E' un po' fastidito dal fatto che la sua ex squadra oggi la Juventus sia scesa in campo con quella formazione e abbia perso con la spalla? Prima mi hanno fatto stessa domanda, è legittimo che non l'Azore scelga la squadra basando la sua priorità? A me sicuramente non mi piace che spalle vinto, però io su queste cose che non posso cambiare le devo accettare. Poi è legittimo, uno si è quasi vinto un campionato e c'è il Torno dei Champions che fa queste cose. Il problema è che, non è problema, perché è anche questione di fortuna, di calendario, che uno becca come Napoli ha beccato, per esempio ha beccato Napoli già secondo e ha la spalla e ha fatto ognuno tre punti. Se giocavano la seconda giornata, probabilmente predevano sera. Questa è una cosa, è una sfortuna di calendario, come posso chiamarla, che non piace, però bisognava accettarla. A noi resta che concentrarsi su di noi, sulle cose che possiamo cambiare noi, guardando con l'ottimismo e lavorando forte, ci sono ancora tanti punti in valore.